Sto aspettando se c'è qualcuno. Non lo faccio solo perchè... 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 ... 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 17 punti vabbè 18 coppe fatte grande bro 8 8 8 9 10 11 13 Grazie a tutti. 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 Quante? Quanti ce ne sono? Aspetta, invitami. Aspetta, invitami. Scusa. Secret Mongraal se è unito. Che roba? Ah, Mongraal con due A. No, non mi ha invitato. No, non mi ha invitato. No, Matteo entra nel nostro. Vabbè, è uguale. Tanto ne siamo in 25. ma ce ne sono delle belve, ma ce ne sono delle belve.